Villa Bonaparte-Pelagallo. La fece costruire negli anni 1826-1829 Girolamo Bonaparte, che scelse il fermano perché si era innamorato della Marchesa Anna Azzolino, la più amabile gentildonna di Fermo. Girolamo era uno dei tre fratelli di Napoleone, fu re della Westfalia. Scelse questa residenza dorata dopo la battaglia di Waterloo, che lo vide protagonista assieme a Napoleone e agli altri tre fratelli. La costruisce in tre anni l'architetto Ireneo Aleandri, allievo di Stern e Camporesi a Roma e autore anche dello Sferisterio di Macerata. Il Bonaparte fa venire tutto l'arredamento via mare da Trieste, dove risiedeva. Mobili e suppellettili tutti in perfetto e bellissimo stile impero, tuttora conservati nella villa. Posta immediatamente sopra il centro abitato, richiese ingenti movimenti di terra per creare i terrazzamenti necessari alla sua costruzione a giardini. L'edificio con la facciata rivolta verso il mare, circondata da un lussureggiante parco di otto ettari, presenta una pianta adù, aperta su un cortile quadrato. La facciata neoclassica è arricchita da un portico e decorata da otto bassorilievi, raffiguranti trofei d'armi. Le tre porte finestre del primo piano, che si affacciano su un lungo terrazzo, sono sovrastate da timpani. Nel 1830 passò ai conti Pelagallo, Fermani, proprietari fino ad oggi. Villa Bonaparte dispone di ampie sale interne, dalla capienza di circa 300 posti a sedere, e il giardino forma un terrazzo affacciato sul borgo sottostante, con una vista straordinaria.